Assessore Mancini, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale non è stata approvata l'immediata esecutività del piano di rilancio. Qual è il prossimo passo in questo momento? Sì, l'immediata esecutività ha bisogno di una maggioranza più qualificata rispetto all'approvazione della singola delibera che è stata apportata. Quindi ha bisogno di almeno 13 consiglieri. Abbiamo noi approvato quindi a maggioranza il piano con 12 voti. Ci è mancato un voto per l'immediata esecutività. Questo anche se non da un punto di vista tecnico non è un problema. La mancata esecutività è soltanto un ordine temporale, nel senso che la delibera entrerà in vigore, quindi il piano entrerà in vigore 10 giorni dopo che è stato pubblicato. Quindi abbiamo avuto uno slittamento di circa 15 giorni nell'entrata in vigore del piano di rilancio della pubblica cultura e molti servizi. Dispiace perché il lavoro è stato molto faticoso, molto difficile, è stato ardo. Dispiace vedere che l'immediata esecutività è venuta a mancare per l'assenza di un consigliere di maggioranza che è uscito dall'aula durante la votazione. Questo è a mio avviso una cosa molto grave e che mi ha dato anche molto dispiacere. Perché il lavoro che è stato fatto è un lavoro egregio, faticoso, che richiede un'assunzione di responsabilità dalla quale, a mio avviso, i consiglieri, soprattutto se di maggioranza, non possono esimersi dall'assumersene. E quindi come cambiano gli scenari dopo il risultato della votazione del Consiglio? È a rischio il futuro della Gubbio Cultura e Molti Servizi? No, no, certamente no. Il Consiglio ha votato con una maggioranza ampia, 12 voti, ha votato l'approvazione del bilancio. Il mandato che è stato dato al Sindaco in qualità di rappresentante del nostro Comune è un mandato pieno e solido. Il piano di rilancio della società verrà portato in Assemblea dei Soci immediatamente. Quindi appena saranno passati questi, purtroppo, 15 giorni di ritardo. E quindi avremo immediatamente la società che cambierà passo e avrà un altro sprint. La parte, invece, politica deve riflettere perché il risultato, devo dire, che non mi ha soddisfatto molto. Passiamo ora ad un altro argomento importante che è quello del bilancio consolidato dell'esercizio 2016. Ci vuole spiegare in parole semplici in cosa consiste? Ci proverò. Il bilancio consolidato del nostro Comune si riferisce al 2016. È un obbligo di legge, l'obbligo di consolidare i bilanci degli enti pubblici con i bilanci delle società partecipate fondamentalmente. Quindi noi siamo un Comune relativamente piccolo e quindi la nostra partecipazione a società di vario genere è limitata all'ogubbio cultura e multiservizi. Le altre società di cui il Comune è parte sono talmente piccoli e ininfluenti come bilancio, tali da non mettere in pericolo per nulla il bilancio dell'ente. Il bilancio consolidato quindi non è altro che il consolidamento, quindi la sovrapposizione dei bilanci della gubio cultura e multiservizi con il bilancio del Comune. I due bilanci vengono messi a confronto. Le partite che sono reciproche, quindi i crediti che la gubio cultura vanta nei confronti del Comune e i debiti che il Comune vanta nei confronti della gubio cultura, vengono elisi, quindi vengono tolti, vengono considerati una sola volta, altrimenti se facessimo solamente le sommalgeriche le conteremmo due volte. Quindi in questo modo si vanno a verificare quale sono, è uno strumento sperimentale diciamo, è il primo anno che viene fatto, ha finalità puramente conoscitive, non ha alcune attività e finalità autorizzative. Quindi il bilancio autorizzativo del nostro Comune è sempre il bilancio finanziario che è stato approvato a maggio con i suoi equilibri e assestamenti di luglio. Quello è il bilancio vero e con il quale vengono fatti tutti gli atti formali del Comune. Però il bilancio consolidato è un buon strumento conoscitivo. Con questo bilancio possiamo andare a vedere che tipo di influenza ha la società nel bilancio del Comune. Ovviamente la gubio cultura e molti servizi si porta dietro tutti gli arretrati dei suoi debiti accumulati, quindi porta un valore negativo sul nostro bilancio consolidato di circa 1.300.000 euro. È un bilancio economico patrimoniale, non è un bilancio finanziario, quindi ha regole più privatistiche che pubbliche. In questo caso la parte pubblica, quando viene valutata in questo modo, ne viene di fatto un pochettino svilita. Basta pensare al fatto di dover valutare il patrimonio di un ente come il Comune. Lo stesso valutare quanto vale il parazzo dei consoli è già una valutazione sui generi. Quindi applicare una forma economica patrimoniale a un ente pubblico è già di per sé un'attività tecnica abbastanza difficile. È però un documento molto importante perché è un documento conoscitivo. Quindi, come dicevo, ci permette di tenere sotto controllo le partecipate. Nel nostro caso è il punto zero, questo è il primo anno che viene fatto. Quindi, anche come indicazione, è di poco interesse, va poco nella profondità delle indicazioni. Però, già ti dice, partiamo da meno 1.300.000 euro, vedremo il prossimo anno quanto sarà l'incidenza della Gubbio Cultura e Multiservizi. Potremo anche in questo modo verificare l'andamento delle prime operazioni che sono state fatte durante il 2017. Alla fine del 2018 lo stesso documento darà anche indicazioni sul valore del nostro piano di rilancio. Perché sicuramente l'incidenza che avrà la Gubbio Cultura e Multiservizi sul nostro bilancio consolidato sarà molto inferiore. Poi, siccome è economico, non finanziario, è molto vicino ai flussi di cassa. Questo per un ente pubblico è altrettanto difficile. Noi sappiamo che, ad esempio, i trasferimenti degli enti superiori hanno dei tempi lunghissimi. Qui parliamo di mesi quando va bene. Quindi, la differenza fra quando può essere accertato finanziariamente e quando può essere invece accertato economicamente un finanziamento è notevole. Di fatto, la chiusura della parte economica del nostro bilancio consolidato è meno 2.200.000 euro. Questo però, ripeto, mentre per un'azienda privata potrebbe essere una situazione, è una situazione abbastanza difficile, per un ente pubblico questo parallelismo non può essere fatto. Il documento non a caso è ancora in fase sperimentale, è un documento a puri fini conoscitivi. Questo bilancio presenta un risultato negativo per 3.500.000 euro. Questo che influenza può avere nel bilancio dell'economia del Comune di Gubbio? Nel bilancio finanziario nessuna. Ripeto, i due bilanci sono due documenti distinti e separati, hanno una vita e finalità completamente diverse. Da un punto di vista invece di studio e di approfondimento della qualità del nostro ente, invece, è molto importante. Ci dice tante cose. Ci dice innanzitutto che quei 3.500.000 euro, 1.300.000 euro, vengono dalla nostra partecipata. E quindi tutto il lavoro che stiamo facendo per rimetterla in sesto è un lavoro fondamentale per dare futuro al nostro Comune. Ci dice poi che ci sono circa 670.000 euro che vengono pagati di interessi dei mutui. Questa è apparentemente una cifra enorme, però per un Comune della nostra grandezza è un valore molto buono. Siamo ampiamente sotto il 2% della percentuale di indebitamento. Ci dice che il nostro problema principale è la capacità di uniformare le tempistiche di pagamento con le tempistiche di accertamento delle entrate. Dobbiamo essere ancora più attivi in fase di accertamento. Ringraziamo quindi l'assessore Mancini per la sua disponibilità e buonasera ancora a tutti gli ascoltatori di Cronachio Gubina. Buonasera.